Banca Emi è ancora sponsor qui di Invest in Napoli 2019, perché continuate a puntare su questa manifestazione? Allora, innanzitutto è stata una bellissima occasione per incontrare i consumanti finanziari e anche gli investitori privati con le quali ci siamo confrontati anche in un'ora oggi in un workshop con Pierpaolo Scandurra ma con un indirizzo educational su quelli che sono i certificati di investimento, prodotti e soluzioni alternative di investimento che vengono proposte poi appunto sul mercato. Noi come Banca Emi siamo presenti in questo momento con i bonus cap di Cash Collect e proprio in questi giorni abbiamo presentato una nuova novità come il Cash Collect Protetto. Ripeto, una bellissima manifestazione che ci rende orgogliosi e sicuramente saremo presenti anche l'anno prossimo. Ripeto, una bellissima manifestazione che ci rende orgogliosi e sicuri sia stata una nuova novità come ilho